Condanne pesanti sono state inflitte ieri nel processo di primo grado sulle aste giudiziarie pilotate, nato dall'inchiesta Operazione Canasta, che ha coinvolto imprenditori, politici e professionisti accusati a vario titolo di estorsione, turbativa d'asta, abuso d'ufficio, peculato, corruzione, falsità materiale e ideologica. 56 gli anni di reclusione complessivi per 15 imputati. 9 anni e 6 mesi la condanna inflitta dai giudici a Giancarlo Carrino di Nardò, 3 anni per Carmelo Tornese e Rossana Tornese, entrambi leccesi, 6 anni e 2 mesi per Ferruccio Piscopiello di Melissano, 9 anni per Luigi Dell'Anna di Nardò, 6 anni e 2 mesi per Francesco Russo, 6 anni per Gregorio Mellone di Nardò, 3 anni e 6 mesi per Pantaleo Colazzo di Galatina, 2 anni per Elio Dell'Anna di Monteroni e Maria Luciana Schito di Muroleccese, 1 anno e 6 mesi per Luigi Sparapane di Galatina, Francesco De Girolamo di Sava e Rosario Bizzarro di Nardò, 1 anno e 2 mesi per Biagio Terragno di Galatone, 1 anno per Marco Palmieri di Lecce. Assoluzione piena perché il fatto non sussiste per Fabio Corvino di Lizzanello, Enzo Benvenga di Gallipoli e Sandro Quintana, anche lui di Gallipoli. Si è ritenuto di non dover procedere per intervenuta prescrizione, tra altri 11 imputati. L'inchiesta, condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, ha messo in luce gli interessi del malaffare e della criminalità organizzata nel mondo delle aste giudiziarie per i beni immobiliari e immobiliari dislocati nel territorio salentino. Un sistema fatto non solo di aste pilotate e truccate con la copertura di professionisti al di sopra di ogni sospetto, ma anche di connivenze relazioni tra uomini d'affari e pubblici ufficiali. Sullo sfondo due dei clan storici della Sacra Corona Unita Salentina, quello dei Padovano di Gallipoli e dei Coluccia di Galatina, che avevano incentrato i loro interessi economici proprio sulle aste giudiziarie. Due le figure principali al centro dell'inchiesta, quella di Giancarlo Carrino, 49enne faccendiere originario di Nardò, e quella di Carmelo Tornese, 64 anni, direttore dell'Istituto Vendite Giudiziarie, gestito da una società facente capo ai figli. Il primo avrebbe gestito il redditizio mondo delle esecuzioni immobiliari, mentre Tornese avrebbe avuto un ruolo di factotum, preposto alle aste giudiziarie come funzionario pubblico, seguendo una sorta di prassi consolidata di disturbo sulla regolarità dello svolgimento, sfalsando così il gioco della concorrenza. Sarebbe stato invece Giancarlo Carrino, come evidenziato dalle numerose intercettazioni telefoniche, a gestire in prima persona i rapporti con Salvatore Padovano, alias Nino Bomba, e il fratello Rosario Padovano.